Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare di un altro punto di agopuntura, il rene 22, bulang in lingua cinese. Prima di iniziare vi ricordo però di iscrivervi al canale tramite l'icona in basso a destra. Bulang tradotto significa galleria del cambiamento. I nomi degli agopunti sono spesso carichi di significati, utili a comprenderne il senso biologico e le applicazioni in terapia. Il livello interpretativo più basso del nome galleria del cambiamento è anatomico. Si riferisce alla posizione sotto il bordo del pettorale di questo punto e al cambio di direzione che il meridiano assume su Bulang. Tuttavia galleria del cambiamento è altrettanto un riferimento al cambio di dignità dei punti sul meridiano del rene raggiunta la gabbia toracica. I punti toracici di questo meridiano hanno infatti una capacità di influenzare lo shen della persona. Galleria del cambiamento è infine anche un'allusione alla capacità dello shen di modificare il corpo al quale è connesso. In tal senso il sistema nervoso per il quale è pertinente l'orbita funzionale rene costituisce l'interfaccia tra gli obiettivi somatici dello shen e i comandi operativi che ne derivano. Il punto rene 22 si localizza nel quinto spazio intercostale, due sun dalla linea mediana. Vediamo le indicazioni cliniche per rene 22, almeno per come risultano dei testi antichi. La stimolazione di questo punto sostiene e regola il C, in particolare di OF, orbita funzionale polmone e milza pancreas. Questo agopunto disperde anche muco e umidità. rene 22 si utilizza dunque in caso di dispnea, tosse, tensione toracica e oppressione toracica. Rene 22 si utilizza in caso di pienezza addominale con dolore ai fianchi. Si utilizza il rene 22 anche in caso di nausea, vomito, disaffetenza. Questi sintomi appartengono ai moti inversi o contraverso. Il termine tecnico della tradizione cinese moti inversi o contraverso può essere tradotto con certo margine di approssimazione come controperistalsi. La peristalsi è quel movimento viscerale che consente al bolo alimentare di procedere dalla bocca verso l'ano. La controperistalsi è l'inversione di questo movimento fisiologico con moto del bolo alimentare che dall'ano va verso la bocca. rene 22 si utilizza anche nell'asma. Infatti nel termine tecnico moti inversi o contraverso occorre considerare per analogia anche lo spasmo della muscolatura liscia bronchiale. effettivamente si osserva anche in questo caso un moto inverso ma nel movimento dell'aria necessario alla respirazione. L'aria inalata tende di fatto a non fuoriuscire per spasmo bronchiale. rene 22 si utilizza per un sintomo peculiare specifico ovvero l'incapacità ad elevare le braccia. Tuttavia questo sintomo incapacità di alzare le braccia nel caso di rene 22 non deve essere inteso solo a livello biomeccanico. Altrettanto presente è l'allusione a quelle sofferenze che sono dovute alla scarsa consapevolezza dei mondi sottili. L'agopuntura considera in ogni malattia gli aspetti fisici accanto a quelli emotivi e mentali. Inoltre studia la relazione tra malattie distinte solo dalle diverse aree di interesse specialistico. Si tratta di aspetti estremamente interessanti nel metodo che consentono vantaggi in terapia ben oltre la semplice stimolazione con gli aghi. Bene siamo alla fine del video di oggi lasciate un commento una domanda sarà mia cura rispondere a tutti spero di vedervi presto ancora arrivederci